Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 21 giugno. A rete, la luna passa in sagittario e questo autorizza a sorridere, peccato per il sole che abbandona il segno amico dei gemelli per casarsi in cancro. Se siete liberi dai legami affettivi, tenetevi pronti a dare inizio ad un'importante storia d'amore. Toro, a darvi la carica contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano nella vita e nel lavoro. Del resto, i migliori risultati li ottenete lavorando in collaborazione con gli altri. Parola di Mercurio. Gemelli, vorrete mettere mano ad una miriade di faccende, senza riuscire a concluderne neanche una, con il sole risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della luna che oggi vi volta alle spalle e quadrando Nettuno limite il vostro campo d'azione. Cancro, oggi i Mercurio e Venere si congiungono nel vostro cielo, sarà una formula magica di determinazione e sensibilità capace di qualsiasi incantesimo. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. Leone, giornata ideale per un viaggio di lavoro, per divertersi in compagnia o solo per portare a termine con soddisfazione i programmi prestabiliti. Un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe darvi una svolta in attesa ai vostri progetti. Vergine, cercate di mantenere saldo il controllo della situazione, senza lasciarvi spiazzare dagli imprevisti della giornata. Occhio alla distrazione. Potreste smarrire oggetti e documenti attenti a dove mettete gli occhiali, il cellulare o le chiavi di casa. Bilancia, armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevole gli incontri e le occasioni di contatto. Esito molto favorevole di una riunione di lavoro. Ci sono note stonate nel vostro cielo che però saprete superare usando oculatezza nelle scelte. Scorpione, venere allarga il vostro raggio d'azione, ma ponete l'attenzione sulla vostra ambizione provando a mettervi in un freno quando si esagera. Con una visione poco obiettiva della situazione potreste rischiare di prendere lucciole per lanterne. Sagittario, il vostro carattere è socievole, amate la compagnia. Fate però attenzione a scegliere quella giusta. Se non volete incorrere in brutte sorprese, una persona conosciuta da poco potrebbe tentare di accattivarsi la vostra simpatia per secondi fini. Capricorno, la situazione economica è soddisfacente, ma potreste ancora migliorarla con oculate e forme di investimento. In ombra il settore sentimentale, in un contrasto familiare fate voi il primo passo verso la riconciliazione, anche se vi costerà molto. Acquario, navigando in internet potreste scovare un viaggio last minute e prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. Solo un monito, se deciderete di partire tenete sotto controllo soldi, documenti ed effetti personali. Pesci, il turbamento emotivo causato dalla quadratura lunare avrà ripercussioni sia sul lavoro sia sulla vita effettiva, afflitta da dubbi ed incertezze. Qualche fastidioso imprevisto nei vostri affari potrebbe rendervi inutilmente polemici e litigiosi.